Si prega di prendere posto e iniziamo la seduta. La parola al segretario per l'appello. Ambroggio è assente? C'era prima. Di Nardo, Falbo, Falcone, Formoso, Frammartino, Gervasi, Lucente, Mazzuca, Morrone, Nigro e assente giustificato. Nucci, Paolini, giustificato il consigliere Paolini, Perri Francesco, Perri Giovanni, assente giustificato. Perugini, Quintieri, Quintieri è presente. Ruffolo, Sacco, Salerno, Savastano, Spadafora Francesco, assente giustificato. Spadafora Giuseppe, Spataro, sono presenti il sindaco e 17 consiglieri. Constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da scrutatori il consigliere Comodaro e il consigliere Caputo per la maggioranza e il consigliere Ciparone per la minoranza. Passiamo alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, l'approvazione verbali della precedente seduta consigliare del 22 maggio e del 3 giugno 2014. Chi vota a favore, chi si astiene e chi vota contro, ha l'unanimità. Sì, ha chiesto di intervenire il consigliere Bozzo. Grazie Presidente per mozione, però prima c'erano delle comunicazioni e delle richieste che dovevo fare al Consiglio. Intanto, lo ha già fatto il sindaco, credo che il Consiglio debba esprimere solidarietà e vicinanza alla professoressa Gallucci per l'aggressione che ha subito nei giorni scorsi. Vanno fatti i complimenti alla squadra di pallannuoto della città di Cosenza che oggi è stata promossa in Serie A. Noi ci troviamo spesso a parlare di calcio, però in questa città ci sono altri sport che danno grande soddisfazione. Quindi un complimento, secondo me, va espresso a queste ragazze. E soprattutto, e credo di parlare a nome di tutto il Consiglio, dobbiamo dire grazie a una persona che questa sera, per l'ultima sera, da dipendente ci terrà compagnia in questa sala, ed è Rosalbina. Io invito tutti a fare un applauso a Rosalbina, da estendere a tutti i validi dipendenti comunali che lunedì andranno in pensione. Io, ma ti ripeto, credo a tutti quanti noi mancherà il tuo sorriso, la tua disponibilità, che in questi anni non ci hai mai fatto mancare. La mozione era sostanzialmente quella di un'inversione dei punti all'ordine del giorno, cioè discutere come primo punto all'ordine del giorno il conferimento di delega al Consorzio Valle Crati per l'attuazione degli interventi di adeguamento dell'impianto di depurazione consortile e realizzazione collettori fognali dei comuni ricadenti nell'agglomerato Cosenza-Rende. Quindi questa era la mozione dell'ordine del giorno. Grazie, Consigliere Bosso. Prima di passare alla votazione, intanto io volevo unirmi al ringraziamento della dottoressa Rosalbina Muoio, che è la segretaria dell'ufficio di presidenza, lo fa da diversi anni. Devo dire che in questi tre anni ormai che mi hanno visto presiedere l'ufficio, lo ha fatto sempre con grande disponibilità e con grande senso del dovere e diceva bene Bosso, sempre con un sorriso, non ha mai fatto mancare un sorriso a nessuno. Quindi invito a fare un applauso alla nostra Rosalbina Muoio, che in effetti ufficialmente va in pensione lunedì, ma che io ho quasi costretto comunque poi ad essere presente, diciamo ovviamente non proprio rispettando gli orari di lavoro, ma per darci una mano nell'ufficio, perché senza di lei sarebbe davvero difficile. A questo punto passiamo alla votazione sulla richiesta di inversione dell'ordine del giorno, quindi il punto 14 diventa punto 2. Non ci sono interventi a favore? Se non ci sono, sì, interventi a favore e contro, poniamoli in votazione. Chi vota a favore? Chi si astiene? Chi vota contro? Quindi tutti a favore, un solo voto contrario. Il punto è traslato. Per cui parliamo del punto 14, conferimento di delega al Consorzio Valle Crati per l'attuazione degli interventi di adeguamento dell'impianto di depurazione consortile, realizzazione collettori fognari nei comuni ricadenti nell'agglomerato Cosenza-Rende, individuati dalla delibera Cipe 30 aprile 2012, numero 60 2012, determinazioni in ordine alle modifiche dello Statuto del Consorzio Valle Crati, deliberata dall'Assemblea consortile, con atto numero 9, 28 12 2013, finalizzata la sua trasformazione in azienda speciale consortile, ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 267-2000. A questo punto io darei la parola al nostro Segretario Generale per anche una sintesi di quella che è la proposta di deliberazione e nel frattempo invito chi volesse iscriversi a intervenire. Sì, se poi non ci sono interventi, visto che c'era solo un contrario, ma è assente, possiamo anche passare alle dichiarazioni di voto e poi diamo lettura del deliberato. Quindi, avendo già per scondati gli interventi, passiamo alle dichiarazioni di voto e cominciamo col Polo Cifico. Buongiorno, Cosenza, non ci assente, i moderati, Spadafora si astiene, uniti per Paolini, Sindaco, Sacco, si astiene, Italia dei Valori, Fran Martino, si astiene, Ciparrone, se il Convenio. Grazie Presidente, Sindaco, colleghi consiglieri. Questa è una pratica che da diverso tempo doveva essere discusse, Sindaco, è qui dove la buona politica si trasforma e si mette a disposizione della collettività, non può essere questa pratica non votata dal sottoscritto perché finalmente si mette un capitolo a questa brutta vicenda del Consorzio Vallegrati. Io già tempo fa sono stato l'unico che ho fatto i complimenti al Presidente attuale del Consorzio il quale trasformando questa azienda da più poteri anche al Comune di Cosenza, sono scelte politiche, non è più come una volta quando in questo Consorzio anche i Comuni con mille abitanti contavano quanto e più forse del Comune di Cosenza. Quindi io le faccio i complimenti per questa pratica, per questo finanziamento. E nello stesso contempo mi auguro che si metta e si chiuda, Sindaco, gli faccio questo invito come ha fatto poi anche nella nostra città per quanto riguarda la raccolta differenziata dove lei si è imbundato su questo tipo di raccolta e di questo nuovo strumento che la città fa fatica ancora ad abituarsi affinché i lavoratori del Consorzio del Deporatore, Sindaco, anche se sono a Rende in quella struttura, non attraversino più quello che hanno attraversato in questi ultimi 5 anni. Subito dopo il fallimento di Valle Grati, hanno subito altri 4 fallimenti, ovviamente con i ritardi nei pagamenti, ovviamente con tutte le problematiche che può avere un fallimento di un'azienda come questa. Quindi mi auguro, Sindaco, che da questo momento in poi anche grazie al Comune di Cosenza questi lavoratori possano vivere tranquillamente del loro lavoro anche se parliamo di depurazione, un lavoro rispettoso e fatto con grande umiltà. Quindi voto con piacere e favorevolmente questo documento, grazie, questa pratica. Appi Alleanza per l'Italia Falcone è assente, Autonomia e Dirizi Sarastano si è allontanato, Scoperiti Presidente Quintieri si astiene, PDL Di Nardo e Consigliere Perri Sì, grazie. Signor Sindaco, Signor Presidente, colleghi consiglieri, naturalmente abbiamo già espresso il voto favorevole alla proposta formulata dall'amministrazione comunale circa la presa d'atto di questo finanziamento cospicuo che risolverà tante problematiche di natura di collettamento della rete fognaria. però durante la discussione si è preso atto di un atteggiamento che non può essere ignorato ma che semmai va sottolineato. Il comportamento del rappresentante dell'amministrazione comunale in seno al consorzio Valle Crati è un atteggiamento che è quasi offensivo del ruolo che il Consiglio comunale è chiamato a svolgere nella città di Cosenza perché spesso si dimentica che chi ci rappresenta rappresenta la volontà della città e quindi di tutto il Consiglio comunale che è espressione appunto degli elettori e dei cosentini. Io ho invitato il Presidente della Commissione Controllo e Garanzia di convocare il nostro rappresentante perché quantomeno ci renda edotto di come è inteso stilare lo statuto della nuova società ma soprattutto perché alla luce del fatto che oggi a Rente esiste una realtà amministrativa diversa e più positiva e più aderente a quelli che sono gli interizi politico programmatici della nostra amministrazione credo che debba riaprirsi un discorso come è stato fatto in modo molto intelligente da parte del nostro sindaco e del sindaco Manna sul problema dei trasporti debba anche aprirsi per quanto riguarda la gestione anche di questa importante materia amministrativa che non può essere in modo distinto rispetto Rente rispetto a Cosenza perché sono i comuni capofila che sono anche i comuni con termini che hanno interesse comuni in questa cosa quindi diciamo sì perché sarebbe veramente un peccato far perdere un'occasione così importante di cospichi finanziamenti che andranno a risolvere non solo problemi di natura strutturale al buon funzionamento della depurazione ma soprattutto a quelli che sono problemi di natura anche finanziaria a un ente che dà lavoro a tante famiglie a tanti nostri concittadini quindi nell'esprimere il voto favorevole ho inteso sottolineare queste riserve e ho inteso sottolineare anche questa denuncia che credo farà proprio al Presidente della Commissione contro le garanzie grazie udc consigliere ruffolo si astiene pse mazzuca sì signor sindaco colleghi consiglieri giunta non esiste quindi tranne lo gullo che provvisore tranne lo gullo che rappresenta l'intera giunta del comune oggi guardi signor sindaco lei oggi deve prendere atto di una cosa molto importante che se non fosse per una parte della minoranza responsabile oggi la città di Cosenza non avrebbe il finanziamento dei 6 milioni e 200 mila euro della depurazione perché lei sindaco è una persona molto esperta molto intelligente però sulla matematica non penso che può convincere perché la matematica non è un'opinione questa è una pratica che va votata con 17 presenze in aula e lei adesso può contare la sua maggioranza mi sembra che sono giusti 14 per cui c'è una grossa fetta della sua maggioranza che è presente solamente quando bussa per la spartizione del potere per avere qualche poltrona per avere qualche assessorato il problema è questo che è vero che non bisogna sparare sulla croce rossa perché ormai le alleanze di centrodestra siete in galuta libera non penso che per i prossimi vent'anni possiate governare qualsiasi tipo di di amministrazione tranne quella di Rende che penso che si è scelto il male minore però io penso che quando si tratta di pratiche che vadano per l'interesse della comunità non possiamo distinguerci in minoranza e maggioranza qui dobbiamo solo stabilire chi è veramente a servizio dei cittadini chi è veramente che rappresenta i cittadini chi veramente vuole bene alla propria città e chi invece viene a bussare solo ed esclusivamente per avere delle prebende per avere degli assessorati o per cercare di entrare nell'Olimpo del del palazzo della regione palazzo campanella che penso che sia da qui a ottobre oggetto di discussione però che molti non avranno mai più la possibilità di superare quelle quelle quei cancelli né tantomeno potersi sedere a quei banchi ebbene lei sindaco questa cosa la deve valutare e ne deve prendere atto perché oggi la città di Cosenza per la maggioranza per la maggioranza per questa maggioranza scusi i presenti perché è chiaro che non è riferito alle persone presenti non hanno interessi affinché questo finanziamento e questa delibera passi io devo ringraziare il segretario per questo lo faccio perché ha trovato un modo di poter dare possibilità al comune di Cosenza di avere questi finanziamenti grazie alla delibera e prendo atto e faccio mia la richiesta del consigliere per ebbene sindaco noi non siamo ben rappresentati nel consorzio ma non perché abbia qualcosa di personale nei confronti del rappresentante del comune di Cosenza ma perché il rappresentante del comune di Cosenza ignora degli aspetti fondamentali cioè che il consiglio è sovrano e che poi alla fine quando sono atti importanti siamo sempre noi a votare oggi ad esempio in commissione siamo venuti a conoscenza di una missiva inviata dalla regione Calabria che convoca per domani mattina alle 11 i rappresentanti del comune di Cosenza del comune di Rende e per conoscenza arriva alla procura della Repubblica di Cosenza io penso che noi di queste cose ne dobbiamo essere informati anche perché noi ci mettiamo la faccia veniamo votati alziamo la mano e di conseguenza siamo responsabili qualora ci fosse qualche anomalia loro prendono solamente dei risarcimenti e poi decidono per nome e per conto così non è per cui io nel prossimo mese convocherò il rappresentante del comune di Cosenza del consorzio Valle Crati il quale mi dovrà spiegare un po' di cose dovrà spiegarlo alla commissione dovrà spiegarlo ai consiglieri e dovrà spiegarlo alla città perché non riusciamo a capire per quale motivo ci siano delle missive indirizzate al comune di Cosenza da parte del consorzio quando noi ci sembra ci siamo trasformati in agenzia speciale queste sono delle contraddizioni che vanno chiarite una volta per tutte e chi ce le dovrà chiarire chi ha agito per nome per conto nostro chi non è riuscito a farci approvare questa delibera entro il termine utile perché non dimentichiamo che se non ci fosse stata la proroga al 30 maggio noi eravamo fuori perché noi al 31 dicembre non abbiamo approvato niente per cui ricapitolo dicendo che faccio mia la richiesta del consigliere perri ricapitolo dicendo che oggi lei sindaco mi dispiace ma non ha una maggioranza seria perché una buona parte dei suoi consiglieri se n'è stata a casa e ha pensato bene di non venire a votare in quest'aula questa delibera importante e che una parte della minoranza responsabile sicuramente non per qualcosa in cambio perché altrimenti penso che qualcuno si può alzare e può smendirmi ha votato per il bene della città quindi lei come ben vede quando ci sono delle pratiche importanti noi siamo a disposizione chiaramente non le potremo mai dare sostegno in una pratica di bilancio ma non perché non abbiamo stima dell'assessore al bilancio perché il bilancio è la pratica fondamentale è l'asse portante di questa di un'amministrazione e votando ciò votiamo la la fiducia a colori i quali oggi non ci sono e hanno dei rappresentanti su quei quei banchi sindaco è arrivata adesso l'assessore succurio e ci fa piacere perché è una bella visione però voglio dire mancano sette assessori dove ah benvenuto all'assessore pizza ecco un augurio di bentornato all'assessore pizza come no forse per quanto mi riguarda è un benvenuto non l'avevo salutata prima quindi mi permetta di salutarla adesso sa che ho stima nei suoi confronti quindi faccio questo passaggio però in tanti mancano forse perché hanno il sentore che possono essere gli ultimi giorni su quei banchi però sindaco io penso che con dignità potrebbero anche arrivare presenziali presenziale siamo in dichiarazione di voto sul punto della decorazione se vuole abbandono Laura se lei mi blocca se vado fuori se vado fuori tema io abbandono Laura e quindi automaticamente ti ho ricordato che siamo in dichiarazione voglio dire che se lei mi riprende io abbandono Laura non avete i numeri per votare la pratica quindi mi dia un altro minuto mi dia un altro minuto e mi lasci parlare perché il tempo è ancora due minuti guardi non sono fuori tema perché è azzeccata questa dichiarazione perché le ripeto che se non fosse stato per noi oggi questa pratica era bocciata per cui invece di richiamare me richiami all'ordine i suoi compagni di partito che ce ne mancano tanti del suo gruppo richiami all'ordine a tutti coloro i quali vengono per chiedere prebende e non per votare le pratiche importanti le ripeto guardi signor Presidente io la finisco qui perché sennò potrei andare avanti fino a domani mattina non ne ho voglia chiudiamola questa brutta questa ennesima brutta pagina del Consiglio Comunale di Cosenza dicendo che purtroppo questi siete mi dispiace noi responsabilmente rimaniamo in aula e votiamo la pratica grazie Mario Chiuto Sindaco Comodaro si astiene Gruppo Misto Bartolomeo si astiene Partito Democratico sono tutti assenti Forza Italia Consigliere Spataro si astiene quindi essendo concluse le dichiarazioni di voto possiamo passare alla votazione previa intervento del Sindaco ho chiuto grazie Sindaco grazie Presidente buonasera a tutti il Presidente giustamente dice di essere breve ma io intervengo perché intanto per la importanza della pratica ma poi anche per rassicurare il Consigliere Mazzucca l'intervento mi è piaciuto molto per la verità ma questa è una pratica che non riguarda la maggioranza innanzitutto dai banchi vedo che onestamente c'è una sproporzione di presenze sarà fisiologica qualche assenza ma rispetto alla minoranza credo che ci sia una sproporzione anche di presenze rispetto ai banchi della maggioranza quindi gli assessori come vedo sono già anche nel frattempo intervenuti però questa non è una pratica della maggioranza questa è una pratica della città di Cosenza tant'è che tante anche persone di minoranza di altri partiti ce l'hanno sollecitata io vorrei dire che tralascio diciamo i discorsi politici che hanno fatto diciamo che sono state parte consistente dell'intervento di Mazzuca che ritiene diciamo che in questa provincia il centro-destra sia non governerà più purtroppo i dati hanno fatto riscontrare sul territorio il contrario perché Rende ha vinto il centro-destra Mondalta ha vinto il centro-destra Mendicina ha vinto il centro-destra ma al di là sono tutti possono essere in qualche modo io penso che sul territorio non c'entra tanto centro-destra o centro-sinistra ma se volessimo proprio andare a vedere i dati a riscontrare i dati delle ultime elezioni il suo ragionamento sarebbe completamente all'opposto però rispetto a questo a questi argomenti consigliere Mazzuca questa è una pratica molto importante che noi abbiamo in parte devo dire responsabilmente diciamo rallentato all'inizio anche con il segretario una pratica che riguarda 35 milioni di euro di cui 24 milioni e mezzo che sono fondi pubblici e 10 milioni e mezzo di parte privata che graverà poi sui cittadini di Cosenza per quanto riguarda le tariffe che saranno applicate rispetto alla depurazione cioè il contributo dei privati sarà ripagato tramite tariffe che i privati prenderanno dall'eco perché è necessaria diciamo anche l'approvazione in consiglio comunale però noi che cosa abbiamo riscontrato in questa pratica e abbiamo fatto modificare che pur essendo un'opera diciamo così consortile che riguardava molti comuni e quindi diciamo proprio di oggetto dell'interesse diciamo anche del consorzio ma che comunque è riferita ad un'infrazione comunitaria di cui il comune di Cosenza è oggetto insieme a tutti gli altri comuni perché non proprio non va alla depurazione che riguardo gli interventi che si andavano a realizzare nel comune di Cosenza non erano previsti con questi finanziamenti non era previsto quasi alcun intervento quindi noi abbiamo fatto modificare il progetto e abbiamo preteso che ci fossero diciamo gli interventi che completano la rete fognale di Cosenza io vorrei ricordare che con questo progetto adesso dopo la nostra ecco che mi fa piacere che il consigliere Mazzuca abbia ribadito giustamente la competenza di questa amministrazione e del sindaco in particolare perché proprio grazie al nostro intervento questo progetto riuscirà a risolvere perché ce lo siamo andati a vedere nei contenuti e nel merito quindi non l'abbiamo approvato così come l'ha stato portato riguarderà una copertura del 100% del territorio comunale cioè noi andremo a fare sostanzialmente interventi che riguardano le località di Bivio Donnici Donnici Centro e Donnici Superiore per una lunghezza di circa 8 km Fiego per una lunghezza di 5 km e mezzo circa e Contraia Moio Piccolo Guarassano Pigna parte di Cozzo del Monico ottenimento soprano di Odato e altre per una lunghezza di circa 5,5 km quindi come si capisce diciamo da questa da questa da quando ho appena detto grazie a questa nostra intervento siamo andati a coprire con questi impianti con questo collettamento fognario che si dovrà realizzare adesso grazie a questo finanziamento tutta la parte di frazione per dire come noi non solo ci siamo interessati ma ci siamo interessati anche per le frazioni credo che questo sia una cosa proprio fondamentale che tanti chiedevano perché non erano coperte all'impianto fognario quindi questo progetto dovrà prevedere lo smaltimento dei liquiami e con la costruzione diciamo di questo sistema fognario di condotte in tutte queste strade che ho appena e frazioni che ho appena detto con il recapito finale che dovrà essere l'impianto di depurazione consortile di rente gestito dal consorzio Valle Crate quindi ci saranno delle opere molto importanti che riguardano appunto il rifacimento della condotta esistente e il sollegamento parziale dei liquami tutta una serie di chilometri nuovi che avevo appena detto e andremo adesso non ve li elenco sono poi dopo elencati diciamo anche nel progetto in questa sintesi che ho fatto e che credo che abbiate visto anche in commissione e questo è lo scopo finale diciamo di questo progetto è quello di eliminare tutti quegli inconvenienti e problematiche igienico-sanitarie dovute alla mancanza di una rete di smaltimento dei liquami fognari e all'utilizzo di sistemi di smaltimento non conformi alla normativa vigente di difesa dell'inguinamento quindi pensate che adesso le frazioni ancora non ci sono molte case sono senza fogne senza condotta fognaria con questo progetto noi andremo a realizzare questa è un'altra opera importantissima io vorrei sottolineare se ci sono anche i giornalisti presenti in au che va a completare diciamo tutta una serie di azioni che riguardano le reti e l'efficientamento delle reti sia quella idrica che in questo caso quella di depurazione e quella fognaria così come quella di illuminazione pubblica che noi stiamo andando a realizzare in questa città quando per anni non era stato realizzato quindi era solo un brevissimo intervento ovviamente in questa promemoria ci sono tutti i dati anche quelli relativi sia ai chilometri di condotta che alle percentuali diciamo che praticamente concludono chiudono diciamo definitivamente tutto il per tutta la città di Cosenza comprese le frazioni la problematica relativa agli imbianti di depurazione e agli imbianti di fognari grazie grazie sindaco io invito i consiglieri che sono momentaneamente fuori a riprendere posto così possiamo passare alla votazione perché vedo vedo ancora no consiglieri invito i consiglieri ancora fuori a prendere posto allora a questo punto passiamo alla votazione nel punto sul relativamente al consorzio valecrati e alla delibera di cui abbiamo appena discusso prima chi vota a favore prego di contare chi si astiene chi vota contro quindi all'unanimità sono sì 16 più sindaco votiamo ora per l'immediata esecutività del punto chi vota a favore chi si astiene chi vota contro all'unanimità il punto è approvato sì consigliere Bozzo una sola volta devi prendere se no la disattiva grazie grazie presidente credo che dopo aver approvato questa pratica importante forse anche alla luce di alcuni di alcune cose emerse all'interno di questo Consiglio sarebbe opportuno un rinvio da parte mia un ringraziamento sicuramente va fatto ad alcune forze della minoranza che per l'ennesima volta ci hanno ci hanno permesso di approvare una pratica importante non solo per l'amministrazione ma per tutta la città è successo è successo già in passato e quindi un grazie ai colleghi Ciparrone un grazie al collega Mazzuca un grazie al collega Sacco io credo che io credo che la politica in alcuni momenti debba riconoscere a chi la fa con passione con impegno e con costanza quelli che sono i meriti dell'attività politica per quanto mi riguarda all'interno di questo consiglio ma anche al di fuori di questo di questo consiglio giornalmente sono impegnato in favore di quella che è la politica dell'amministrazione mi auguro che da parte di altri si faccia la stessa cosa inizio ad avere qualche dubbio grazie Presidente a questo punto poniamo in votazione la richiesta di rinvio del consigliere Bozzo se non ci sono interventi a favore o contro a meno che non è presente qui qualcuno nel comitato diceva il sindaco nel punto che è il prossimo punto all'ordine del giorno quello sul rifacimento di Piazza Cappello il 15 luglio quindi Santa Teresa ma non vedo nessuno del comitato quindi a questo punto possiamo tranquillamente porre in votazione il rinvio del consiglio chi vota a favore chi si astiene chi vota contro nessuno all'unanimità il consiglio è rinviato ad andare a destinarsi grazie a tutti grazie a tutti